Quale nutrizione per l'atleta? Ecco in questo caso abbiamo messo una foto di un atleta molto famoso ma come dire ho fatto in questo corso una serie di approfondimenti sono andato a cercarli perché mi sembrava utile anche ragionare su cosa fanno gli altri no perché atleti olimpici tipo Michael Phelps ed altri a volte insomma ognuno dice la sua no si sentono delle cose un po strane a diete particolari ma anche abitudini che arrivano magari dal loro dalla loro zona dalla loro città dalla loro nazione dal loro continente dove dove abitano e quindi dice ma cosa mangiano loro e quando lo mangiano perché mangiano questo e lo mangiano prima lo mangiano dopo eccetera allora ho trovato tutta una serie di indicazioni utilissime che ci fanno ragionare e poi alla fine faremo il nostro ragionamento e magari penseremo chissà sono tutte bagianate oppure wow tutte cose vere ognuno valuterà per Michael Phelps Jake Oliver Dylan Armstrong Johan Blake Naoko Takahashi e Federica Pellegrini quindi abbiamo preso un po tutti i continenti possibili dall'America all'Asia all'Italia e alle isole insomma dei Caraibi fino ad avere una visione abbastanza ampia di atleti che hanno vinto alle olimpiadi e ai campionati del mondo quindi che fanno loro che facciamo noi bene ci arriveremo eccolo lì è l'atleta più medagliato nella storia delle olimpiadi 8 medaglie d'oro a Beijing 2008 ed è Michael Phelps nel proprio durante le olimpiadi di Pechino magari qualcuno di voi se lo ricordano è uscita una dichiarazione che aveva fatto notizia rimbalzata poi per anni per anni si è vista ancora dopo tanti anni qualcuno ancora lo scrive oggi che aveva dichiarato che lui faceva cercava di stipare tutto quello che poteva nel suo corpo arrivando anche a 12 mila chilocalorie perché poi le bruciava tutte perfetto diciamo che a Londra 2012 questa dichiarazione l'ha un po come dire ritagliata forse qualcuno ne ha detto guarda l'hai sparata un po grossa e quindi ha ridotto dicendo chiaramente era impossibile arrivare praticamente impossibile arrivare a 12 mila chilocalorie anche se poi facendo delle stime anche ordinarie con degli elementi che possiamo riconoscere era realistico che con quegli allenamenti si arrivava a 8 9 mila chilocalorie di dispendio e quindi ovviamente di integrazione poi chiaramente uno dice come fai tu però a mangiare 10 mila chilocalorie 9 mila chilocalorie e quindi dovresti stare mangiando queste queste cose come in questa foto per ore seduta al tavolo quindi chiaramente allora lì dobbiamo andare a capire che forse non è insomma quello che vediamo non è tutto realistico certo facendo però diete dove le chilocalorie arrivano quasi tutte da grassi anche saturi come vediamo questa foto vera o non vera quello che è magari si arriva prima ma sarà nutriente ma intanto ha vinto 8 medaglie d'oro alle olimpiadi che però non vuol dire allora visto che la fa Michael Phelps lo faccio anche io pesista britannico in questo caso si chiama Jake Oliver lui ha dichiarato che ogni mattina cerca di nutrirsi con 50 grammi di avena 30 grammi di proteine proveniente soprattutto dal siero del latte e ancora dal latte prende almeno 500 ml quindi mezzo litro di latte con 10 grammi di colostro che perché non sapesse il primo latte di una mucca appena nata quindi già dici questo è totalmente diverso da Michael Phelps di prima e qui arriva dalla pesistica ed ancora un lanciatore del peso che arriva dal Canada Dylan Armstrong che è molto noto ha una massa molto importante un peso di 160 chili più o meno ed è stimato anche abbastanza realistico che il suo consumo tra le 6500 9000 kilocalorie a differenza di Phelps e di altri Armstrong ha detto che lui mangia almeno 5-6 volte al giorno preferisce salmone e pollo e anche manzo quindi molte proteine che arrivano principalmente da animali e poi passiamo all'atletica leggera con Johan Blake della Jamaica che è soprannominato anche The Beast la bestia proprio per la sua massa possente è stato campione del mondo nei 100 metri molto noto per questo la seconda prestazione al mondo poi dopo Usain Bolt forse devo dire non è stato molto fortunato perché ahimè è nato proprio in quel decennio dove Bolt ha vinto di tutto quindi diciamo molti magari non lo ricordano perché Bolt ha bucato anche in termini di comunicazione la cosa importante questa dichiarazione che lui ha fatto che dice di mangiare 16 banane mature ogni giorno per mantenere i livelli alti di potassio aumentare le sue energie e quant'altro ma non lo so 16 banane potrò essere poco tanto e così via intanto dobbiamo considerare siamo banane della giamanica che non è poco io mi ricordo la prima volta che sono andato in Malesia più o meno siamo a livelli sempre dello stesso parallelo la banana a parte che aveva un gusto totalmente diverso di quello che possiamo mangiare noi alle nostre latitudini ma anche l'apporto nutrizionale è ben diverso da quello che abbiamo noi così come ma lo vedremo nel corso del percorso la banana quando è verde è una cosa ha grandi quantità di fibre e pochi zuccheri quando è gialla la stessa banana magari dopo una settimana è totalmente un altro frutto con molta più frutta e molta meno molta meno fibra quindi la banana da solo da solo non serve ma in ogni caso una dichiarazione l'abbiamo presa così come è stata fatta che ci fa ragionare e quindi alla bestia Johan Blake piacciono questi frutti e quindi passiamo ad una donna molto nota Sydney 2000 aveva vinto la maratona e lei è Naoko Takahashi si dice si spera anche devo dire per lei ma così per il popolo giapponese che sarà lei può portare la fiamma olimpica la torcia nell'ultimo passo per accenderla nelle olimpiadi 2020 proprio di Tokyo lei arriva chiaramente dal Giappone dove sappiamo perfettamente che la cultura anche il modo di mangiare tendenzialmente molto più spostato verso il pesce non verso la carne e quindi fa un grande utilizzo e uso di sushi e quindi dice di mangiare dopo un allenamento importante almeno 50 pezzi di sushi per un totale addirittura di 4 chili e mezzo di pesce sarà vero non vero può anche essere considerate che questo è abbastanza dimostrato durante una maratona quindi una gara che per lei è di due ore per i maschi circa due ore ovviamente per le donne un po' di più ma il consumo di ATP la produzione il consumo di ATP è circa il peso della persona quindi stiamo pensando per esempio per un uomo sono circa 80 chili che vengono prodotti e utilizzati non distrutti ovviamente utilizzati in termini di energia durante una gara quindi come dire il nostro corpo si rigenera e crea un'energia incredibile per cui ci può anche stare che dopo un allenamento molto intenso poi alla fine vengano utilizzate queste grandi quantità di energia in quel caso provenienti tutti dal pesce crudo abbattuto ma crudo e poi arriviamo un po' a casa nostra con la nostra atleta di punta del nuoto che Federica Pellegrini lei ha dichiarato lei così con il suo chef di riferimento Marco Bianchi ci trovate tantissime dichiarazioni su questo per cui ne ho prese alcune che ci dice che lei mangia tante proteine vegetali e molto pesce sia crudo che cotto eccetera vedi molto diverso da quello che è un po' più vicino alle asiatici molto diverso da Michael Phelps e soprattutto predilige pasta, riso ma integrali che ovviamente sappiamo sono e sapremo nel corso di Nutrition Expert ricchi di fibre tra le altre cose che viene segnalata nell'alimentazione di Federica Pellegrini trovate su tantissimi siti insalatone con barbabietola e tofu che sappiamo ricco di proteine vegetali e anche di grassi insaturi così tutta una serie di altre cose tipo barbabietola rossa e quant'altro per quanto riguarda altre modalità anche qui vengono dichiarati grandi utilizzi di noci, mandorle, nocciole e anche insomma per quanto riguarda i dolci alcuni dolci viene citato il crumble che io non ho mai mangiato ma insomma si fa senza burro con poco olio ma di mais quindi comunque molte volte l'aspetto della nutrizione come abbiamo visto nelle dichiarazioni di questi atleti è veramente tanto vario tra di loro e quindi molte volte deve incontrare i gusti e la cultura degli atleti così come insomma il giapponese, l'italiano, l'americano però poi alla fine a termini di nutrizione deve dare quello che serve all'atleta alla fine l'atleta deve vincere in questi casi che abbiamo visto hanno sempre vinto ora dire che quello che hanno utilizzato sicuramente era stato efficace l'atleta deve vincere in questo caso